Ciao a tutti, allora prima di tutto vi racconto un attimo chi sono e da dove vengo. Prima di tutto nel 2012 mi sono laureata in economia dei paperini, almeno così questo c'è scritto nel mio papiro, poi veramente in economia internazionale nel 2014. Una volta concluso il percorso accademico ho deciso di voler scoprire cosa c'era al di fuori del territorio veneto, quindi ho avuto modo di fare alcune esperienze nel mondo start-up, prima per holly.com, una start-up a Parigi e poi per Pink Trotters, la prima una marketplace che mette in comunicazione proprietari di animali e pet sitter e Pink Trotters invece una community di donne che ama viaggiare. Per entrambe le start-up seguivo l'e-commerce e il sito. Concluse queste esperienze sono ritornata in Veneto e per due anni e mezzo fino al 30 settembre ho lavorato per Rawfish, un'agenzia di Vicenza che si occupa di design e sviluppo di prodotti digitali, in particolare focalizzata sulle applicazioni mobile native. In Rawfish ho avuto modo di gestire progetti e clienti sia del mondo start-up che di corporate come ad esempio Mediaset e Enel. ma insomma in tutto questo, bellissime esperienze, si parla un sacco di innovazione, tecnologia eppure in tutti questi anni c'è sempre stato un tarlo che mi è rimasto in testa, ovvero questo. Il bancone dietro cui io sono cresciuta, l'attività di mia madre, dove qui ho passato tanto tempo quando ero piccola e quindi mi chiedevo ma se tutto quello che io ho studiato, che sto imparando nel mio mondo professionale, come faccio a usarlo e declinarlo per fare in modo di sollevare un po' le persone a cui voglio bene. Cioè io vedo, ho sempre visto mia madre lavorare 10-12 ore al giorno, perché non posso usare la tecnologia per un po' semplificare la sua vita? Quindi è vero e bello pensare in grande, parlare di start-up, innovazione, applicazioni, piattaforme web, però poi la cosa bella è riuscire a sfruttare queste cose nel quotidiano, nel mondo di tutti i giorni. E quindi ripartiamo dall'inizio, dal titolo del pitch. Cos'è la digitalizzazione? Sono andata su Google per cercare una definizione. Wikipedia parla di il passaggio da analogico a digitale, quindi il trasferire le informazioni per renderle fruibili tramite video e audio e immagini. Il famoso Gartner invece parla di cambiare il modello di business per produrre valore. Poi però ho chiesto a Marta Basso, che oltre a essere una cara amica è anche una LinkedIn influencer, se così vogliamo chiamarla, e quindi lei ha chiesto alla sua community una definizione di digitalizzazione, quindi ha chiesto direttamente su LinkedIn alle persone che normalmente lavorano tutto il giorno, tutti i giorni con l'innovazione. E ho preso, mi sono preso il permesso di rubare alcune definizioni che mi sono piaciute di più. E qualcuno la definisce informatizzare i processi aziendali, in modo da renderli snelli, in modo da facilitare il lavoro. Qualcun altro intende digitalizzazione come un modo per alleggerire il lavoro di team, quindi portare le informazioni, i dati e renderli fruibili in qualsiasi momento da tutto il team. Qualcun altro invece parla di cambiare la gestione del business, quindi cambiare appunto il modello di business. riprendiamo la definizione di Gardner prima. Io adesso lo chiedo a voi, cos'è digitalizzazione? Questa parola che sentiamo ed è sulla bocca di tutti? Tutti timidi? Mettere online. Qualcun altro? Innovazione. Ok, quindi bene o male vediamo che per tutti quanti c'è una cosa in comune che vediamo in questa definizione, si tratta comunque di qualcosa che semplifichi. Marta, sempre la stessa che mi ha aiutato a recuperare queste definizioni, con il suo solito stile un po' catastrofico, la definisce una cosa imprescindibile per la sopravvivenza delle imprese. C'è però un problema. In Italia abbiamo 4,4 milioni di micro, piccole e medie imprese. Cosa si intende di cui 4,3 milioni? Sono micro imprese. Micro imprese, cosa vuol dire? Sono quelle aziende che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a 2 milioni. E sono tante perché corrispondono al 95%, a più del 95% dell'ossatura dell'economia del nostro paese. E queste aziende, tutte queste aziende che sono un po' la caratteristica del nostro territorio, come fanno a digitalizzare se mancano le competenze, come fanno a portare un cambiamento se non hanno idea di come fare, se non sanno come misurare i dati, se magari vogliono anche investire, sono curiosi, c'è della curiosità, ma come fanno a capire quanto di quello che hanno investito veramente ritorna? I dati forniti dal Talent Garden ci dicono che il motivo per cui le micro, piccole e medie imprese in Italia non attuano qualche processo di digitalizzazione sono questi. Quindi sicuramente tanta mancanza di competenze, non sapere dove andare, non sapere di cosa si sta parlando. Andiamo quindi a, vi porto la mia esperienza personale di quello che, il percorso che ho iniziato a fare con questo piccolo negozio, che è appunto un negozio in un paese alle porte di Vicenza, un paese di 11.000 abitanti forse, è un negozio di tessuti e biancheria per la casa e merceria, che è presente nel territorio da più di 30 anni, con tre lavoratrici full time e devo dire che nonostante gli ultimi anni di crisi, è un'attività che va bene, vedete gli ultimi cinque anni il fatturato è sempre stato in crescita, così come abbiamo i dati delle visite medie giornaliere che comunque è cresciuto nel corso degli anni, così come anche lo scontrino medio è stabile bene o male. Quindi ci chiediamo perché un negozio così, che insomma non ha particolari problemi, anzi sta vivendo un momento abbastanza felice, dovrebbe portare a un cambiamento, perché proprio in questo momento, quando le cose vanno bene, bisogna essere lungimiranti e porre le basi per avere sempre pronto un'alternativa B, C, D, perché non si sa mai quello che può succedere, oltre al fatto che le tre lavoratrici full time al momento non lavorano otto ore, lavorano di più, quindi fare uno sforzo iniziale per magari semplificare il loro lavoro in futuro. Andiamo a vedere le criticità, quindi quello da cui sono partita è fare un'analisi, quindi capire e mettere nero su bianco quali sono i problemi che impediscono, comunque possono essere un freno per digitalizzare, perché qualcuno potrebbe dire, ok prendi tutti i prodotti, li porti online, qual è la difficoltà? E', parliamo comunque di un negozio piccolo, che ha un miliardo di prodotti e che ovviamente non sarebbe in grado di competere con i grandi player, quindi sia per prezzo che per varietà e disponibilità di variabili. Un'altra criticità è lo showrooming, molti negozianti ne parlano e si lamentano di questo fenomeno, ovvero il fatto che molte volte il cliente consumatore va nel punto fisico, si fa consigliare o comunque usufruisce delle competenze, del know-how del negoziante e poi riesce a fare un acquisto consapevole online grazie però alle informazioni che ha ricevuto offline. E questo è un problema che vediamo tutti i giorni anche nell'attività locale di cui sto parlando. Un altro grande problema è la raccolta delle informazioni degli utenti e della comunicazione con questi. Non c'è nessuna standardizzazione, anzi vi faccio vedere come fanno per raccogliere informazioni e i contatti dei clienti che ogni giorno chiedono di procurare dei prodotti ad hoc, fanno così. Nel 2019 in cui i dati e le informazioni degli utenti sono orcolato, loro le scrivono su un post-it che poi ovviamente viene buttato via e sono convinta che, non è che loro siano un caso unico, sono convinta che la maggior parte delle attività locali faccia così. Quindi abbiamo non solo dati personali perché abbiamo nome, cognome, numero di telefono, ma abbiamo anche le preferenze degli utenti. Quindi questa è una grande criticità perché una delle risorse principali del punto fisico rispetto al negozio solamente online sono proprio i clienti stessi e la possibilità di incontrarli face to face, la possibilità di instaurare più facilmente un rapporto di fiducia. Se noi buttiamo via le informazioni di questi utenti è come con rimanere in mano nulla. Dopo aver più o meno analizzato le criticità più evidenti siamo andati a vedere invece qual è il vantaggio dell'attività locale. Quindi cosa la contraddistingue? Sicuramente il fatto che da più di 30 anni sia nel territorio e abbia sempre lavorato bene ha fatto sì che si instaurasse un rapporto molto molto forte sia con i clienti ma anche un rapporto di fiducia. Il passaparola è molto forte tanto che arrivano clienti da più di 20 chilometri di distanza. C'è sempre stata una continua ricerca di prodotti nuovi. A volte non si trovano a magazzino i prodotti che soddisfino i gusti. Benissimo ci sono i tessuti. Si decide di realizzare ad hoc per il cliente quello che il cliente richiede. Ovviamente poi attorno al negozio si è creato questo network di sarte, persone che lavorano nel mondo del fai da te o comunque del bricolage, della creatività e questo porta un duplice vantaggio perché ai clienti offri un altro servizio che tu non offri in negozio, quindi la possibilità di affiancarsi ad una sarta e allo stesso tempo le sarte portano in negozio dei possibili nuovi clienti. Da questi valori aggiunti, quindi dai punti forti dell'attività locale, abbiamo deciso di fare due cose principalmente. Lanciare un brand, un brand di prodotti per la casa, semplice, che sia un po' rappresentativo dei valori del negozio quindi per ora abbiamo fatto produrre in Italia, fatti a mano, con tutti i criteri di buona qualità due linee di accessori, diciamo tovaglie, tovagliame, runner, tovagliette da te e quant'altro che vengono venduti con l'etichetta. Cosa che si faceva già prima, per carità, però adesso hai un nome che identifica e dà valore a quello che viene fatto dal negozio. Un'altra cosa che già si era iniziato a fare proprio in loco era quello di fornire consulenza. Ovviamente chi ha un'attività locale lo fa già, lo fa gratuitamente, ma il fatto di scriverlo, di poter prenotare una consulenza vuol dire dare valore, vuol dire alzare un po' l'assicella, far rendere conto al cliente che tu stai regalando il tuo tempo. A quel punto serviva un posto dove far vedere queste cose. Il primo step è stato quello di creare un sito vetrina, serviva un posto online dove far incanalare i contatti, quei contatti che prima abbiamo visto nei post-it. Ovviamente io, essendo più o meno del settore, nel senso che lavoro nel mondo digitale, avevo già avuto a che fare con WordPress e quindi sono andata a colpo sicuro. Non sono tecnica, quindi ho pensato bene di far fare lavoro a chi lo sa fare sicuramente meglio di me. Quindi, sapendo già dove, quello che volevo, la direzione che volevo prendere, ho deciso di far fare il sito in WordPress, un sito vetrina, a uno sviluppatore. Abbiamo scelto come tema il tema Jupiter, su consiglio dello sviluppatore, perché prima di tutto ha dato un ampio spazio alla creatività, quindi noi sappiamo già che volevamo delle pagine pulite e quindi il design è stato abbastanza malleabile. Oltre al fatto che io volevo la possibilità in un futuro di lavorare con WooCommerce, cosa che poi dopo è stata, perché abbiamo lanciato il brand, cioè il marchio, e soprattutto il fatto che fosse un sito responsive. Per me, che vengo dal mondo delle applicazioni mobile, è una cosa scontata, però mi rendo conto che ancora adesso non è sempre così, nel senso che sono andata anche alla presentazione di un sito della Commissione Europea e il loro nuovo sito non è responsive. Quindi facciamo le cose, facciamole in piccolo, però facciamolo bene. E infatti, se io guardo i dati, il 65% dei miei utenti arriva nel sito da mobile, quindi assolutamente era una prerogativa necessaria. La famosa lead generation, quindi in questa fase del sito vetrina, il sito mi serviva appunto per fare la raccolta dei contatti. E WordPress, perfetto in questo caso, perché col plugin di MailChimp mi permette di inserire un pop-up che fa lead generation. E questo l'ho inserito io da sola, quindi facilissimo. E altro punto di contatto, ovviamente la pagina dei contatti. e un'altra cosa che mi permette di fare lead generation è quell'offerta di servizi, ovvero il fatto di prenotare una consulenza direttamente a casa del cliente per i tendaggi, oppure una guida per insegnare come prendere le misure delle tende. Altra esigenza percepita nel punto vendita. Quindi nel punto vendita si sono accorte che la maggior parte delle persone non sapeva come prendere le misure delle tende e non so se voi lo sapete, io non lo sapevo, ma per far fare delle tende bisogna assolutamente sapere come prendere le misure e avere tutti i centimetri precisi, perché sennò la tenda tocca per terra e non va bene. E quindi io ho fatto scrivere una guida che può essere scaricata e ovviamente l'utente deve lasciare l'indirizzo email per scaricarla. Altro piccolo trick, offline, perché alla fine, come abbiamo detto prima, la più grande risorsa dei punti fisici sono i clienti stessi che già frequentano quell'attività locale, ho obbligato a mettere davanti alla cassa un iPad con l'applicazione di MailChimp Subscribers e in questo caso nell'ultimo mese e mezzo abbiamo raccolto circa 130 contatti in questo modo, quindi che sono stati lasciati in maniera completamente organica, quasi di spontanea volontà, e quasi... Vabbè, scusate, se vogliono del materiale che ho procurato ad hoc, esatto, io voglio l'indirizzo email. E quindi con tutti questi piccoli trick a costo praticamente zero siamo riusciti a iniziare ad avere una lista di contatti da poi poter utilizzare. Quindi abbiamo iniziato in questo modo, non in maniera perfetta, ci sono sicuramente tante cose da aggiustare, ma come dice sempre Alessia, done is better than perfect, quindi in qualche modo partiamo da qualche parte. Step numero due, il negozio. Quindi, posto che era impossibile portare online tutti i prodotti del punto vendita, perché sono veramente tanti, pensate solo alla merceria, quindi fili, bottoni, elastici, no, impensabile. Però il nuovo brand, quello sì, ha le potenzialità per essere venduto online, perché chi conosce il negozio lo associa al negozio stesso, chi non conosce il negozio non importa, vede un brand PIDEA che ha delle caratteristiche che sono il made in Italy, la buona qualità dei tessuti, le linee semplici e la qualità del prodotto. Quindi, io vedo una potenzialità ed è questo che dovrebbe servire la tecnologia, quindi aprire le porte e trovare nuovi mercati, nuove possibilità di vendita. E i motivi per cui io ci tenevo tanto a fare qualcosa nel mondo di e-commerce è perché in Italia il mercato dell'e-commerce, comunque la vendita online, è tutto un terreno da esplorare, soprattutto per quanto riguarda l'arredamento. I dati riguardanti l'aumento delle vendite online sull'arredamento non erano presenti nel 2005, ma sono però presenti nel 2015. Questo vuol dire che anche il settore, il settore dell'arredamento di cui il negozio fa parte, è comunque in continua crescita, anzi, inizia adesso a crescere, quindi un mondo infinito di potenzialità. Quindi, concludendo, quali sono i fattori e perché e come bisognerebbe digitalizzare un'attività locale? Con tanta pazienza, prima di tutto. È un percorso lungo che implica il modificare dei comportamenti di chi ci lavora dentro quel punto fisico che magari sono stati replicati per X anni, nel mio caso è più di 30 anni, quindi bisogna far capire in primis a chi ci lavora, qual è la necessità e perché. Bisogna cambiare e bisogna farlo a piccoli passi. Per adesso, l'unica cosa che in negozio hanno percepito è il dover salvare nell'iPad i contatti e-mail e ogni tanto, se si ricordano, farmi qualche foto così, per i social magari. Quindi, queste qua sono piccoli impatti che non hanno modificato granché il loro modo di lavorare. Tutto il resto sul loro lavoro quotidiano non ha impattato. La presenza online, il fatto che oltre al sito ci sia la pagina di Google My Business curata, il fatto che qualcuno risponda sempre alle recensioni, sono tutte cose che messe insieme fanno sì che il negozio continui e aumenti la sua credibilità anche online. Seconda cosa è l'analisi. Prima di far qualsiasi cosa, sapere dove si vuole andare. Perché avere le idee chiare vuol dire risparmiare anche un sacco di tempo di sviluppo, di prove. Non deve essere per forza la soluzione finale più giusta. Ma sicuramente avere un percorso mentale lineare aiuta. La tecnologia. Io dico sempre che la tecnologia dovrebbe essere uno strumento per semplificare e aprire nuove opportunità. Sarebbe inutile scegliere degli strumenti tecnologici che chi lavora non riesce a gestire ad utilizzare. In questo caso WordPress è stato lo strumento più semplice che fornisce un sacco di integrazioni che rendono veramente il lavoro in qualche modo più facile o comunque non impatta in maniera troppo pesante. e poi bisogna fare bisogna buttarsi sbagliare e poi aggiustare il tiro perché non credo che per nessun business ci sia una ricetta perfetta ma si tratta sempre di avere delle competenze generali una visione e poi declinarlo. Se avete domande grazie.